Buonasera a tutti, oggi Trieste Villas e i ragazzi di Selle in Trieste. Ci troviamo in una trasversale di via commerciale, alla fine di via del panorama. Questa è la villa, il corpo principale di 255 metri quadrati e una dependance di 67. Cinque posti auto con due accessi totalmente indipendenti. Qui, come vedete, la vista parla da sola, vista strepitosa, con giardino di circa 1.400 metri quadrati. Sono due unità catastali, generose metrature, tante stanze e tanti bagni. Non vi voglio annoiare elencandovi ogni tipo di stanza, ma quello che dicevamo prima, le immagini parlano da sole. Non è vero, essere qui e avere questo quadro davanti non si può capire in un'immagine. Quindi contattateci, prenotate una visita e venite a provare l'emozione di questo teatro, di questa immagine, di questo quadro, di questo meraviglio. Trieste Villas, Davide, Selle in Trieste, Chiara e vai! Perfetto!